Buonasera a tutti, sono Franco Roy, sono un piccolo produttore di olio ligure, arrivo dalla provincia d'Imperia, nell'entroterra di Almeritaggio, un piccolo paese che si chiama Badalucco, nella Val Argentina. L'amico Maso mi ha chiamato per testimoniare un attimo il tipo di agricoltura che facciamo, noi facciamo un'agricoltura biologica, tutto viene riciclato con le foglie della raccolta delle olive, facciamo di nuovo compost che ridiamo di nuovo ai nostri oliveti, abbiamo cinque asini, un cavallo, una pecora, una capra che girano negli oliveti, che tengono l'erba tagliata, intanto concimano, con tutto il nocciolo dell'olivo che facciamo, praticamente facciamo marciare tutti i nostri riscaldamenti, quindi l'acqua calda, riscaldamento sia per il frantoio che per la casa, che per l'agriturismo, tutto viene fatto con il nocciolo dell'olivo, quindi praticamente facciamo un ciclo completo di questa trasformazione dell'olivo, perché purtroppo l'oliva, l'80% è acqua e scarto, diciamo, solido e si prende solo il 20-15-20% che è l'olio che dopo è quello che mangiamo e quindi abbiamo fatto questa scelta di tentare di recuperare completamente e di usare questo 80% che era lo scarto. Quindi siamo stati la prima azienda nel settore dell'olio a essere stati certificate free on the earth da questa grande organizzazione internazionale, perché appunto si crudeva un ciclo e non facevamo rifiuti facendo un prodotto alimentare. Fare agricoltura da una parte è difficile, dall'altra parte è bellissimo perché dà anche tantissime soddisfazioni. Noi abbiamo puntato tantissimo sulla qualità, cosa che nel 1980 non veniva molto apprezzata perché volevano solo il prezzo, il prezzo e poi i dottori dicevano che l'olio extravergine faceva male e che l'olio di semi faceva bene, quindi abbiamo avuto anche queste battaggi pubblicitari pagati dalle multinazionali per distruggere il nostro prodotto. Comunque chi ha fatto qualità devo testimoniare che piano piano adesso c'è una bella rivincita e quindi adesso un po' in tutto il mondo si cercano dei prodotti di qualità e poi in più è arrivato un po' di orgoglio contadino, cosa che purtroppo prima non c'era. Nell'80, nel 70 chi era contadino si sentiva uno sfigato, adesso chi è contadino incomincia a essere orgoglioso di essere contadino e anzi se ne vanta e quando è in giro è anche facile che sia invidiato per il tipo di vita che fa a contatto con la natura, a contatto con gli animali e in un mondo un po' più sano che nella città. Quindi questo è un momento di un po' di rivincita. La cosa bella di noi contadini adesso che incomincia anche a partire delle reti che sono nate grazie a queste organizzazioni, a queste organizzazioni, allo Slow Food per esempio io voglio raccontarvi un po' la mia esperienza. Il primo presidio che abbiamo fatto internazionale, io sono sempre stato nello Slow Food, sempre stato un grandissimo amico di Carlin e il primo presidio internazionale che si è fatto è stato l'olio di Argan. L'olio di Argan, per chi non lo sa, la foresta dell'Arganier si trova nel centro del Marocco, è una zona molto povera, è una foresta importantissima perché fermano, questi alberi fermano la desertificazione e all'interno di questa foresta ci sono dei villaggi piccolissimi dove c'era un gravissimo problema perché tutte le ragazze che erano vedove, ragazze madri oppure ragazze abbandonate, in questi villaggi venivano completamente escluse dal villaggio e non avevano più nessun modo di sostenersi o di sostenere i propri figli. La ragazza che veniva abbandonata dall'uomo non era più niente, non contava più niente. Lo Slow Food insieme all'Università di Rabat ha fatto un presidio in quella zona sull'olio di Argan che è fatto con il frutto, con il gherico del frutto di questo albero e sono riusciti a coinvolgere tutte le ambasciate che c'erano in Marocco con un piccolo investimento di 10 milioni quegli anni la era, ogni ambasciata pagava una casa, dei tappeti, delle pietre e dove queste ragazze picchiavano, spaccavano il gherico, prendevano i gusci e compravano una piccola macchina per schiacciare questi semi per fare quest'olio. Io sono andato tre volte giù, poi abbiamo portato su delle ragazze, abbiamo insegnato come assaggiare un olio perché poi gli oli che siano di oliva, se sono cattivi, certe caratteristiche di brutti gusti li hanno, essendo un grasso sono simili, quindi gli abbiamo insegnato a schiacciare bene, a produrre bene quest'olio, a fare un olio di qualità. Adesso pensate che ci sono 25 cooperative, ci sono 5 mila ragazze che sono diventate le ragazze più ricche di questi villaggi che lavorano, siamo riusciti a vendere il loro olio grazie, io per esempio vendevo l'olio in Germania e ho passato il nome del mio importatore tedesco, l'altro Frantoiano ha passato il nome dell'importatore norvegese, in questo modo facendo rete abbiamo aiutato completamente una zona di produzione, aiutandoli a produrre meglio, a fare un prodotto di qualità e a riuscire a venderlo. È vero, sono solo 5 mila ragazze, però se noi piccoli agricoltori incominciamo a fare rete, come si è sognato tanti anni fa Carlino Petrini con lo Slow Food e chi fa quello che ha 20 animali che fa formaggio in Kazakistan ha un problema, però sa che può contattare il suo collega che invece fa formaggio in Olanda piuttosto che in Italia e buttare nella rete il problema che gli sta succedendo con i suoi animali, magari dalle altre parti c'è uno che ha avuto lo stesso problema e che può rispondere e dire guarda che io l'ho risolto così, fa così che risolvi questo problema, quindi la rete è importantissima, secondo me è un elemento che per noi piccoli agricoltori essere in rete diventiamo più potenti delle multinazionali, questo era il messaggio che volevo dare e un'altra cosa che voglio dire prima di andare via, in questo momento c'è da fare rete per noi agricoltori con degli agricoltori che sono molto in difficoltà e che questa comunità europea vuole distruggere che sono gli agricoltori greci e quindi tutti noi piccoli agricoltori dobbiamo aiutare i piccoli agricoltori greci, io aiutandogli a vendere un po' di olio, chi fa patate a vendere patate e cercare, perché l'unico modo per combattere le multinazionali e queste regole assurde che stanno facendo a Bruxelles è quello di unirci in rete e tanti piccoli diventano più forti e più potenti delle multinazionali, grazie.